Il turismo itinerante legato a caravan e autocaravan, che fa registrare in Italia ricavi per circa 3 miliardi di euro l'anno, in campagna è poco diffuso a causa dell'esiguo numero delle aree di sosta presenti sul territorio. Il turismo all'aria aperta è sempre più gettonato in quanto consente ai viaggiatori di vivere in maniera ravvicinata le bellezze naturalistiche e paesaggistiche, il patrimonio culturale e artistico, le tradizioni locali e le produzioni e neogastronomiche dei luoghi che si intendono conoscere. La vacanza itinerante rappresenta un'imperdibile opportunità di crescita per il comparto turistico della regione campagna, che senza alcun dubbio è tra le mete più attraenti. Si tratta inoltre di una forma di turismo sostenibile in perfetta sintonia con il patrimonio naturalistico di cui la nostra regione è particolarmente ricca. Lo ha dichiarato a Radio Leopolda Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in consiglio regionale nel suo podcast Diario di Bordo, l'obiettivo della proposta di legge presentata in consiglio regionale avente ad oggetto nome in materia di turismo itinerante. Garden sharing e area di sosta caravan e autocaravan, ha precisato Pellegrino, primo firmatario del progetto insieme ai consiglieri Vincenzo Alaia, Francesco Iovino e Vincenzo Sant'Angelo, è quello di creare una rete virtuosa difficilmente realizzabile attraverso soluzioni di viaggio tradizionali tra comuni limitrofi e soggetti privati, così da contribuire anche a dare qualche opportunità ai piccoli centri delle aree interne che pur offrendo scenari straordinari che vale la pena scoprire e visitare sono spesso poco attenzionati. Investire sul turismo itinerante con l'aumento del numero dei viaggiatori interessati a una vacanza sostenibile alla ricerca di piccoli borghi ricchi di storie e di cultura può rappresentare anche una concreta opportunità lavorativa per chi vuole investire nel settore turistico, ha concluso Pellegrino.